Si svolge contemporaneamente nelle 110 Camere di Commercio d'Italia in collaborazione con il Digital Champion. Di cosa si tratta? Allora, Digital Champion è un'associazione a livello nazionale che dipende tramite il nostro Presidente, che è Riccardo Luna, direttamente dalla Presidenza del Consiglio. Quindi siamo un supporto di volontari civici che gratuitamente contribuiscono alla divulgazione, quindi alla diffusione della cultura digitale. Noi lavoriamo anche insieme all'Agit, l'Agenzia Digitale Italiana, di cui è Presidente Lapoggiani. Siamo qui perché rappresentiamo in effetti il cittadino, per cui oltre a comunicare, a chiarire alcuni concetti a livello formativo, vorremmo garantire che tutto quello che il Governo ha prontato alla fine funzionasse veramente. Quindi noi siamo un gruppo di esperti digitali selezionati in tutta Italia, proprio da Riccardo Luna personalmente, che svolgono queste attività, anche di termometro, che le cose vadano bene. Noi comunicheremo direttamente al Governo, tramite il nostro Presidente, tutte le disfunzioni che potranno nascere nel corso di questo switch off verso la fatturazione elettronica. Grazie. Grazie. Grazie.